Noemi Signorile, paleggiatrice capitana del Cuneo Granda San Bernardo, Cuneo che è attesa dalla difficile trasferta sul campo di Conegliano. Noemi, come prima cosa ovviamente ti chiedo, insomma, questi primi giorni con una nuova guida tecnica, come sono andati e come arriva la squadra a questa importante, seppur molto difficile, partita. Allora, questi primi giorni sono andati bene, con Massimo ci troviamo già molto bene, lui è molto bravo, io lo conosco da tantissimi anni, quindi ci fa lavorare bene, stiamo lavorando tanto anche tecnicamente. Siamo pronte, diciamo che vogliamo un po' riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo fatto in Coppa Italia contro di loro, quindi sicuramente andiamo là per cercare di fare meglio e dare il massimo. Poi sappiamo che andiamo a giocare contro una corazzata, quindi questo non ci spaventa, ma cercheremo veramente di dare il 100%. Si è parlato molto della serenità del gruppo in questi giorni, hai visto comunque una tranquillità maggiore, una squadra che sta cercando di compattarsi, come hai vissuto questi giorni? Sì, sì, vabbè, noi comunque siamo sempre state una squadra molto unita, ci siamo sempre cercati di unire anche nei momenti difficili e ancora di più in questo periodo comunque è stata una stagione un po' travagliata con diversi cambiamenti e devo dire che la forza nostra è proprio questa del gruppo. Ci siamo uniti ancora di più e in questi giorni l'abbiamo fatto vedere ancora di più al nuovo allenatore che è appena arrivato, quindi assolutamente la nostra forza è questa. Adesso c'è questa partita contro Conegliano che chiaramente non ha neanche bisogno di presentazioni. Ecco, voi a cosa può servire una gara del genere, soprattutto considerando che adesso c'è un nuovo allenatore in panchina, quindi ci sono anche delle novità sotto tutti i punti di vista. Questa gara per voi cosa può significare? Al di là poi chiaramente dell'avversario che è veramente difficilissimo da affrontare. Beh, sicuramente incominciamo un po' a conoscere l'allenatore che è appena arrivato, incominciamo un po' a giocare in base a come ci ha impostato lui, quindi sicuramente sarà una partita dove pian piano troveremo l'equilibrio tra di noi insieme al nuovo allenatore, quindi sicuramente sarà questo tipo di partita. Poi ripeto, abbiamo tanta voglia di riscatto dalla scorsa partita, quindi vogliamo veramente dimostrare che quel 3-0 che abbiamo preso non si ripeterà, nel senso che lotteremo sicuramente molto di più.